Il comune di Pescara ha predisposto sistemi di sicurezza e una serie di provvedimenti viari in vista del derby di questa sera alle ore 20 e 30 tra Pescara e Lanciano. Già dalla giornata di ieri è scattato il protocollo di sicurezza della prefettura con le recinzioni sul lato sud dello stadio adriatico Cornacchia a ridosso del campo sportivo in maniera da blindare la corsia di marcia nel tratto compreso tra via Marconi e via Davalos. Sono una cinquantina gli agenti di polizia municipale chiamati a gestire il controllo dei varchi e il presidio delle transenne intorno all'area esterna, in servizio anche agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Oggi ci saranno gli interventi più incisivi, l'ordinanza infatti prevede l'entrata in vigore del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Pepe, via Marconi, via Elettra, in via Davalos e in via Riccitelli. Sulle stesse strade scatterà il divieto di transito dalle 17.30 fino al termine della gara. Il derby Pescara-Lanciano non sarà una partita da codice rosso, ma la rivalità tra le due tifoserie ha imposto al Comune a predisporre questi provvedimenti già sperimentati in occasione dell'ultimo campionato.